Oggi, lunedì 23 ottobre, è scattato il primo giorno di due mesi di pulizia straordinaria dei viali della zona mare. E' partito oggi da Viale Trento il serrato calendario che fino alla fine del 2023 vedrà operatori e macchine spazzatrici al lavoro per la radicale pulitura di fogliame caditoie. Un intervento non solo estetico ma finalizzata ad agevolare il deflusso delle acque piovane ed evitare allagamenti. Intervento annunciato giovedì da Marche Multiservizi e dall'assessore Enzo Belloni per divulgare il calendario che ogni giorno friale del mese vedrà divieti di sosto obbligati dalle 12 alle 18 per agevolare al meglio le pulizie. Divieti segnalati anche da cartellonistiche e da volantini nelle residenze di riferimento ma oggi al primo giorno di pulizia non sono state poche le automobili che nel tratto fra Viale Napoli e Viale della Repubblica hanno violato il divieto portando altro lavoro agli agenti della polizia locale che hanno viaggiato al fianco delle operazioni di pulizia. Operazioni che come da calendario proseguiranno ogni giorno feriale dalle 12 alle 18. Il martedì si prosegue nel lato nord di Viale Battisti, il mercoledì nel lato sud di Viale Trieste, il giovedì nel tratto sud di Viale Trento, il venerdì nel tratto sud di Viale Battisti.